I tuoi sogni, obiettivi e aspirazioni. E' bene che tu dedichi loro un po' più di tempo per capire se significano davvero qualcosa per te. Anche dopo 25 anni, 50 anni, quando sarai sul letto di morte, avranno ancora significato per te. E' questo che devi considerare. Qualsiasi cosa a cui aspiri, qualsiasi cosa sogni, qualunque obiettivo tu ti sia prefissato, significheranno davvero qualcosa, perché la maggior parte di questi obiettivi sono trappole. Sono solo trappole. Ci entri e sono una strada a senso unico. Non puoi tornare indietro. Voglio che tu ci pensi bene, perché molti di loro sono più vecchi di te. Chiedi a loro quello che sognavano a 18 anni. Sono fortunati che non si sia avverato. Sì o no? Se tutto ciò che hai desiderato o sognato fosse diventato realtà, potresti conviverci. Per fortuna tante di quelle cose sono state filtrate e non si sono mai avverate, no? Quindi sarebbe un bene se tutti quelli della tua età, se vogliono decidere e prefissare gli obiettivi della propria vita, sarebbe ottimo se prendessero una pausa da tutte le influenze attorno a loro, influenze sociali, influenze familiari, altri tipi di influenze, e si ritirassero in qualche posto, ecco il perché dell'ashram, si ritirassero in qualche posto per sedersi, meditare e raggiungere un certo grado di chiarezza e gioia. Devi prendere decisioni quando sei felice. Non è nella disperazione che si stabiliscono obiettivi. Gli obiettivi disperati che stabilisci significheranno molto per te in quel momento. Il giorno dopo li guardi e non sai perché ti ci sei invischiato. Quindi sarebbe un bene se stai sistemando la tua vita. È meglio che tu lo faccia quando sei molto, molto tranquillo, felice e con le idee chiare. Non è così. Non influenzato da nulla attorno a te. Semplicemente per conto tuo. Siediti e decidi. Cosa vuoi veramente diventare nella tua vita? Che cosa avrà un valore duraturo per te, non per qualcun altro, per te. E non devi costruire una personalità per questo. Tu lotta per quella cosa. La personalità necessaria verrà da sì. Devi capire cos'è una personalità. La parola personalità deriva dalla parola persona. Persona in greco o in latino scusa. Significa maschera. È una maschera che usavano nei teatri antichi, quando le stesse persone recitavano ruoli diversi. Per esempio, mettendo in scena il Ramayana, tu devi recitare i ruoli di Rama, ma anche di Sita e anche di Lakshman. Per ognuno di questi c'è una maschera. Con indosso questa maschera parli come Rama. Poi la togli. Con indosso questa maschera parli come Sita. Poi la togli. Con indosso questa maschera parli come Anuman. Poi la togli. Le rappresentazioni teatrali erano così. Quindi erano quelle le maschere a cui ci si riferiva come persona. Quindi personalità significa che indossavi una maschera e la maschera è rimasta appiccicata alla tua faccia. Non sei riuscito a toglierla. Questo significa hai una personalità. La personalità è qualcosa che le persone stanno cercando di sviluppare perché non hanno alcun senso dell'essere. Invece della cosa vera, stai cercando di realizzare la cosa finta. Se sei in contatto con il tuo essere, perché vuoi una personalità? Non è necessaria. Puoi essere una personalità diversa in posti diversi. Lo sei già, in effetti. O sei bloccato su una sola personalità. Alcune persone lo sono. Le persone di mentalità semplicistica hanno solo una personalità. Altri hanno diverse personalità in aree diverse della vita. Non è così. Se mi aveste visto prima del 1999, prima della consacrazione del Dhyanalinga, ero una persona completamente diversa, ok? Al punto che tutto ciò che mi riguarda era così diverso. Molto prima erano successe cose che erano al di là di me, ma questa era consapevole. A quel tempo avevo una mentalità focalizzata su un certo obiettivo. Ero in un certo modo. Poi, dopo, non ho mai pensato che avrei vissuto oltre, ma in qualche modo è successo. Poi ho pensato, ok, ora che il lavoro è fatto, fammi cambiare personalità. Per portarlo a termine, avevo acquisito un certo tipo di personalità. E ora che era finito, ho pensato, fammela cambiare. E l'ho detto alle persone intorno a me. Vedete, ho intenzione di cambiare la mia personalità. Non scioccatevi, sono sempre lo stesso. Loro dissero, non c'è problema. Dissi, tenetevi forte perché le cose cambieranno. Tutto di me cambierà. Il modo in cui opero cambierà, il modo in cui parlo cambierà, il modo in cui vesto cambierà, il modo in cui faccio qualsiasi cosa cambierà. Loro hanno detto, non c'è problema, ti conosciamo, ti amiamo e questo e quell'altro. Dissi, va bene, tenetevi forte perché quando le cose cambiano le persone si staccano. Molti si staccarono perché non potevano crederci. Dov'era la persona che conoscevano? Quella persona era evaporata. Questa è una persona nuova, non riescono a identificarsi con questa nuova persona. E l'ho detto e sono cambiato. Al grado tutto, si sono staccati. Così tanti di loro. Così tanti di loro che mi erano molto cari e molto vicini se ne sono andati. Perché sono cambiato drasticamente e glielo avevo detto che sarei cambiato. Dato che una fase del mio lavoro era finita, era tempo di cambiare la mia personalità. Il mio aspetto, il modo in cui vesto, il modo in cui parlo, il mio stesso modo di essere. Tutto di me. Ho cambiato anche il cibo che mi piace. Ho cambiato la mia personalità, quindi ho pensato «cambierò anche il cibo». Quindi la personalità è qualcosa che hai assunto. Ma ne sei diventato così inconsapevole che pensi sia reale. Stai chiedendo come sviluppare, quindi significa che te la inventi. Giusto? Un'altra parola per sviluppare è inventare, no? La inventi. La inventi nel modo più adatto per il tuo tipo di attività, ma devi essere capace di toglierla. Se rimane appiccicata in faccia, diventa una sofferenza. Ti arriverà ogni tipo di sofferenza. Puoi indossare ogni tipo di personalità, ma quando vuoi toglierla, devi essere in grado di toglierla. C'era un saggio. Era così avveduto. La gente andava a vederlo e si formavano delle folle. Poi il re andò da lui e il re vide che un uomo così saggio sarebbe dovuto essere a corte. Così disse al saggio, devi venire e diventare il mio primo ministro, perché un uomo saggio come te non dovrebbe andare sprecato seduto sotto un albero. Devi essere utile per le persone. Il saggio disse, va bene, ma ha una condizione. Devi darmi una stanza nel tuo palazzo, dove trascorrerò un'ora ogni giorno. Non dovrai mai sbirciare in quella stanza. Non dovrai mai chiedermi cosa ci faccio. Non dovrai mai farvi irruzione. Niente. Questa stanza dovrà essere inviolata da te, dai tuoi servi, dai tuoi agenti segreti, da tutti. Il re pensò, non è un problema. Che problema c'è? Vuoi la tua stanza? Perché dovrei voler guardare nella tua stanza? Prendila. Poi, ogni qualvolta vi era una riunione importante, quest'uomo che è un saggio, ora diventato ministro, quindi con indosso vestiti appropriati per il palazzo, ma va in questa stanza e si chiude dentro per un'ora e poi esce. Passano i mesi e gli anni, ma col passare del tempo, la curiosità dei re, sapete, ci hanno portato anche su Marte. Vuole sapere che diavolo fa là dentro. Iniziarono le vicerie ovunque. fa qualcosa, ha qualcuno là dentro. Forse è un agente del nemico, è piombato qui all'improvviso. Cosa sta facendo lì? Tutti, l'intero palazzo cominciò a mormorare su cosa stesse facendo in quella stanza. Tutti vogliono vedere cosa c'è nella stanza, ma è sempre chiusa la chiave. lui entra, passa del tempo lì e poi esce. Specialmente quando deve essere fatto qualcosa di importante, lui ci entra. Ci fu ogni tipo di pettegolezzo. Così, un giorno il re non poteva attenersi. Il re chiese a questo uomo, voglio dire cosa c'è in quella stanza. Lui mi rispose, beh, mi hai fatto una promessa. Se rompi la promessa, me ne vado. Allora si trattenne. Non voleva perdere l'uomo. Era troppo saggio. E poi un suo cortigiano iniziò a dire, come puoi permettere questo? Non sappiamo cosa succede lì dentro. Potrebbe essere pericoloso. Potrebbe essere questo. Potrebbe essere quello. Un giorno, quando lui non c'era, scardinarono la porta ed entrarono. Guardarono in giro. La stanza è vuota. Nessun mobile, nulla. Solo una stanza vuota. Guardarono. Nulla. Che cosa fa qui? Poi in un angolo videro dei vestiti molto logori. Appesi lì e una ciotola per l'elemosina. Andarono a vedere. Non riuscirono a capire di cosa si trattava. Poi lui arrivò e disse, beh, volevi vedere e ora hai visto. Il re chiese, cosa fai qui? Lui rispose. Ogni volta che devo prendere una decisione importante, vengo qui. Mi metto i miei vestiti logori e siedo con la ciotola delle lemosine. Chiaramente non voglio essere coinvolto nelle cose del palazzo. Non voglio che la mia saggezza vada persa in questi vestiti e in questi gioielli e in queste cose. Quindi vengo qui, mi metto questi vestiti, mi siedo con la mia ciotola per le lemosine, prendo la decisione e poi esco. Ora hai rotto la promessa e se ne andò. Quindi, ecco cos'è la meditazione per te. Ogni giorno quando siedi ti spoglie di tutto. Non devi fare nulla. Se siedi semplicemente, vedi, qualsiasi cosa inventata ha bisogno di supporto costante da te, no? Vedi, supponiamo che tu dica una bugia. Ha bisogno di supporto costante perché rimanga in piedi, non è così. Ma se qualcosa è vero, puoi anche dimenticarlo, ma rimane lì, non è così. Capisci cosa voglio dire? Se qualcosa è vero, anche se te lo dimentichi, rimane lì, nessun problema. Ma se è una bugia, devi tenerla in piedi. La tua personalità è una bugia. Il tuo essere, la tua esistenza è la verità. Non hai bisogno di tenerla in piedi. Sarà comunque lì. Ciò che inventi per la società perché funzioni nella società, hai bisogno di un certo tipo di trucco. Devi essere capace di rimuoverlo. Se vai a dormire tutto truccato, c'è qualcosa di sbagliato in te. Grazie a tutti.